Ciao a tutti, cari telespettatori, vi ho visti sul mio canale. Un messaggio speciale per la festa della donna da Ken Yaman a Oji Gurel. Informazioni dettagliate sull'argomento saranno nel nostro video. Ken Yaman, uno degli attori più belli della Turchia, ha fatto scalpore con la sua dichiarazione a sorpresa in occasione della festa della donna. Lo sviluppo della sua vita privata e il suo rapporto con la compagna Oji Gurel, di cui si parla da tempo nel mondo delle riviste, hanno acquisito una nuova dimensione dopo questa dichiarazione dell'attore. Ecco la notizia dettagliata dalla rivista. Ken Yaman, uno dei famosi attori turchi, ha attirato l'attenzione della stampa e dei fan con una dichiarazione romantica in occasione della festa della donna. Il post di Ken Yaman sulla festa della donna sul suo account sui social media ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fan. Il punto in cui i messaggi romantici dell'attore in onda hanno ricevuto un'ampia copertura da parte della stampa è l'underground. Le espressioni romantiche in onda sulla speciale figura femminile dell'attore. Il più sorprendente di questi personaggi è stato il suo partner Oji Gurel. Ken Yaman ha sottolineato in modo particolare la sua dichiarazione e ha chiamato in causa il suo partner Oji Gurel. Secondo me Oji è la donna più forte e le sue parole hanno suscitato grande sorpresa nella stampa. La relazione tra l'attore Ken Yaman e Oji Gurel ha occupato per molto tempo un posto importante nell'agenda della rivista. Gli avvenimenti della sua vita privata furono ampiamente seguiti anche dalla stampa. Questa affermazione di Ken Yaman ha suscitato grande preoccupazione tra i fan del giocatore. Le congratulazioni speciali di Ken Yaman e il messaggio di congratulazioni a Oji Gurel hanno affascinato tutti. Sul nostro canale troverete per voi nuovi sviluppi sull'argomento. Arrivederci!